musica 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 molto più di quello che mi aspettavo da render post nebbia qui a niente di strano sai che è un bellissimo nome Carlo sempre da canale posaggi Se tu guardi, è tutto impostato La 1, Carlo La 4 incrocia qua I due carrelli che fanno Quello può essere utile Primo live È figo scendere giù con la camera così Guarda, l'ho fatto nel finale Questo è bello, sì Vai Fra, fai un po' di movimenti di quello che abbiamo visto prima Ma mi fai un totalone proprio Carlo Costone, Carlo Carlo, per favore puoi venire in studio, grazie Facciamo una prova di intro Ehi, facciamo così Ehi, ok Alice, mi ha avuto un paio di casi Che vuole il tuo capitato Salve il foo Non sai che di caso, Nicolò E adesso, niente di strano Due, signori e signori Mister Lazza di Sina Sicuramente faremo un sciro È proprio la casa Sicuramente c'è in forma Un secondo ma di strutto Poi dire che abbiamo fatto il disco d'oro Andiamo a crescere ancora Sei molto in forma, fratello Ciao M tutor Grazie a tutti.